Drafil Sub si è sviluppata in questi 40 anni, nasciamo come palombari e oggi facciamo un altro tipo di mestiere. Grazie ai fondi regionali siamo riusciti a sviluppare questi impianti alto fondale e in seguito la realizzazione del simulatore a supporto dell'impianto alto fondale proprio per la formazione degli operatori che si trovano a dover affrontare le campagne lavorative. Ultimamente stiamo realizzando un altro impianto alto fondale che è per 9 operatori a 300 metri di profondità quindi un'altra fascia di mercato. Nell'arco dell'ultimo lavoro abbiamo eseguito un'immersione a 186 metri, la quota di immersione più profonda al mondo eseguita in lago sul lavoro commerciale. Grazie a questa apprezzatura particolare che la regione Liguria ci ha aiutato a sviluppare. La nostra società è in Liguria, rimarrà in Liguria. Noi siamo profondi, lavoriamo in profondità e profondamente Liguri. Fare imprese in Liguria conviene.